ciao salve a tutti sono luca allevatore selezionatore produttore flore locali purtroppo i video si bloccano come avete notato devo ripartire mille volte c'è stata possibilità di effettuare visita in apiario poi adesso rivedremo il reparto flore e le varie percentuali anche adesso ne vediamo una presa sul tiglio qua purtroppo mi si bloccano di continuo ma le rivedremo le rivedremo bene assieme ve lo prometto ve lo sto facendo infatti guardate che bella questa percentuale presa su questa flora raccolta su il tiglio il rovo e altri di quel momento è un 15 e 2 portava un 16 8 17 l'avevamo presa durante la fase di smelatura volevo aprire chiudere una parentesi in quanto alle percentuali mi era stato rammentato anche io commettevo questi errori elementari come vedete non mi pare che sia questo il caso apro e chiudo una parentesi proprio in quanto a questi nuovi commenti questi nuovi commenti in quanto su ai i titoli la punteggiatura la virgola tutti aspetti che non sono attinenti proprio a quello che vedete cioè alta produttività flore pregiate stato di salute delle api straordinario per questo facciamo sempre le corna e crociamo le dita ma appurare in effetti come ho appurato oggi l'effettivo stato di salute non tanto gli effettivi consumi o gli sviluppi che si possono constatare dal vassoio ma il loro stato di salute se si può appurarlo visivamente è sempre la miglior cosa ovviamente se ci sono condizioni idonee come è stato nel caso delle visite che avete visto sole vostre